Ciao sono Moreno Ruspi e sono qui per parlarti della ride che faremo io e Antonio Cassini in Tintice sabato 20 giugno 2015 al rifugio San Lucio di Clusone. Questa splendida visuale che vedi alle mie spalle è il panorama che ti accompagnerà per tutte le ride. A noi due spetta il compito di aprire le danze e lo faremo con una ride di ben un'ora e 50 minuti con inizio alle ore 15. L'abbiamo chiamata EIS Zang Session e ti voglio spiegare perché. La lezione è caratterizzata da tre blocchi specifici che dureranno circa 30 minuti ciascuno ma vediamo nel dettaglio la ride. Nei primi 10 minuti farai un riscaldamento in pianura in sella per portare i battiti cardiaci al 65% della frequenza cardiaca massima. Cercherai fin da subito connessione con la tua bike, connessione con il tuo allenamento, con la musica e con il tutto e nei minuti successivi affronterai il primo blocco dell'allenamento. E sta per endurance quindi preparati ad allenare la tua capacità di sostenere per circa 20-25 minuti un certo sforzo mantenendo invariato il livello della tua prestazione. Sempre in pianura porterai la frequenza cardiaca progressivamente vicino al 75% e la tua abilità sarà quella di equilibrare le differenze che si creeranno con le andature fuori sella. Tranquillo perché la velocità di pedalata ti aiuterà sempre adattandosi ai differenti momenti. Negli ultimi minuti della nostra endurance, sempre con lenta progressione, porterai la frequenza cardiaca all'80%. A questo punto hai 5 minuti di meritato recupero per riportare la frequenza cardiaca al 65%. In questi 5 minuti io e Antonio ti prepareremo al meglio per affrontare la parte centrale dell'allenamento dove raggiungerai la massima intensità con un particolare allenamento che migliorerà tantissimo la tua performance aerobica oltre ad aumentare il consumo delle tue calorie. E sta per interval training e lo farai in modalità high intensity interval training, in particolare alternando picchi di intensità al 90% che raggiungerai con 30 secondi di preparazione e 60 secondi di massimo sforzo alternati a recuperi al 65% di circa 3 minuti. I picchi di intensità li farai utilizzando sia tecniche di pianura che di salita. Dopo l'ultimo intervallo recupererai al meglio per 5 minuti prima di affrontare l'ultimo blocco. S sta per strength e a questo punto tutta la tua concentrazione o tutto il tuo sforzo si sposterà alla forza resistente perché nell'ultimo blocco per circa 20-25 minuti sarà in salita la regina delle andature con una frequenza cardiaca variabile tra il 75% e l'85%. Complimenti sei arrivato in cima alla montagna e hai raggiunto il tuo obiettivo. Dopo una fase defaticante io e Antonio ti restituiremo energie mentale fisiche per affrontare i successivi 50 minuti della giornata. Non ti preoccupare perché renderemo l'allenamento semplice e piacevole e per quanto riguarda la musica aspettati grandi cose perché conosco benissimo Antonio e lo stimolerò a fare qualcosa di speciale. Perché Zensation? Beh, Zensation perché tutta la ride avrà moltissimi contenuti comunicativi e sarà caratterizzata da tutta la nostra esperienza di anni di indoor psyche e di corsi di crescita personale. Sarà una comunicazione continua e trasversale ad ogni momento del tuo viaggio, piacevole e motivante per i tuoi risultati. Questo momento che state vedendo questo video è martedì 12 maggio 2015 e sono ancora disponibili gli ultimi 4 posti per la tua ride. Affrettatevi e iscrivervi perché sarà una ride unica da un punto di vista tecnico, uno speciale viaggio per allenare la tua mente e il nostro obiettivo finale sarà quello di farti star bene. Ti ricordo che anche nella giornata di domenica ci saranno altre ride e se sei interessato o interessata contattami pure al mio profilo Facebook Moreno Milano Ruspi dove troverai anche il volantino dell'evento oppure alla mail info chiocciola ginasianparabiago.it. Ora ti saluto ricordandoti che pedalare al rifugio San Lucio con il suo bellissimo panorama è di per sé un'esperienza unica. Io Antonio ti salutiamo, ti aspettiamo il 20 e 21 giugno 2015 alle ore 15 per una nuova avventura insieme.